Bentornati in studio, in apertura di questa seconda parte di Free News parliamo dell'Assemblea dei produttori, dei commissionari e delle organizzazioni di categoria di ieri al mercato ortofrutticolo di Vittoria. L'incontro al quale ha preso parte anche la nuova amministrazione comunale è servito per parlare dei risarcimento per i danni alle aziende e per programmare la manifestazione che si terrà sabato pomeriggio in Piazza del Popolo. Vediamo. I produttori agricoli di Vittoria in mobilitazione. Ieri pomeriggio al mercato ortofrutticolo di Contrada Fanella, imprenditori, commissionari ed associazioni di categoria si sono riuniti in una grande assemblea per lanciare il grido di insofferenza di tutto il comparto che sta vivendo una crisi senza precedenti. Il primo cittadino, Giuseppe Nicosia, che ha aperto gli interventi, ha parlato delle modalità di accesso al risarcimento danni per le aziende agricole colpite dalla crisi. Somme messe a disposizione dall'Unione Europea, circa 210 milioni, che però non sono sufficienti per coprire le richieste di tutte le nazioni comunitarie che hanno chiesto gli aiuti. Ulteriormente penalizzate saranno tutte le piccole e medie aziende che non sono riunite in OP, come ha ricordato lo stesso primo cittadino. Intanto per sabato pomeriggio è stata organizzata una grande mobilitazione in Piazza del Popolo, alla quale parteciperanno tutti i produttori delle province di Ragusa e Caltanissetta, i rappresentanti istituzionali e alla quale sono stati invitati anche l'assessore regionale all'agricoltura di Lodandrassi e il ministro Saverio Romano. Evidentemente abbiamo colto nel segno nel fare come primo incontro, nell'indire come primo incontro, proprio quello con i produttori agricoli, invitarli al mercato che è la loro casa e decidere insieme le forme di protesta e di sostegno al mondo dell'agricoltura che la politica deve necessariamente ascoltare. Abbiamo intenzione di chiedere a politica regionale, nazionale ed europea che si interesse e si intesti finalmente delle iniziative di sostegno a questa agricoltura. I primi interventi che vengono dalla comunità europea significativi ma sono assolutamente insufficienti e quindi vanno innanzitutto riviste le modalità e soprattutto le somme stanziate che sono assolutamente insufficienti e poi comunque dalla politica nazionale al ministero per l'agricoltura noi chiediamo assunzione di impegni seri per sostenere questo mondo. Guardate, oggi così è una riunione semplicemente per parlare, per verificare se e come fare una protesta. Qua abbiamo diverse centinaia di persone, se non un migliaio di persone. E a proposito di crisi del comparto agricolo, il deputato regionale del PD, Pippo Di Giacomo, ha presentato all'Arso una mozione per impegnare il governo dell'isola a stanziare somme a sostegno delle aziende agricole colpite dalla crisi, aggravata dalla fobia causata dalle batteri o killer. L'esponente del PD è convinto che oltre ai 210 milioni stanziati già dall'Unione Europea sia necessario un impegno aggiuntivo da parte della regione siciliana per sostenere l'agricoltura locale. Ci spostiamo adesso a Ragusa, dove l'amministrazione comunale si schiera in difesa delle aziende agricole e contro i continui furti di rame che lassano le aziende senza energia elettrica. Per combattere il fenomeno si sta avvagliando la possibilità di installare in alcune contrade un sistema di telesorveglianza Wi-Fi. L'amministrazione comunale di Ragusa si pone a fianco delle aziende agricole che a causa dei continui furti di rame si ritrovano spesso e volentieri senza energia elettrica. A questo proposito il sindaco Nello Di Pasquale ha affrontato la questione nel corso di un incontro con i responsabili del Dipartimento regionale della protezione civile e dell'Enel Distribuzione. Stiamo affronteggiando l'emergenza e nelle more del ripristino da parte dell'Enel delle linee elettriche smantellate da autentiche bande di criminale, ha dichiarato Di Pasquale. Sono stati messi a disposizione delle aziende, dei gruppi elettronici che consentono il funzionamento delle muncitrici elettriche, degli impianti di rifrigirazione del latte e quelli di irrigazione. Inoltre il primo cittadino ha chiesto al prefetto di sollecitare una maggiore e più incisiva attività di controllo da parte delle forze dell'ordine nelle zone considerate a maggior rischio di furti. Attenzione massima anche da parte dell'assessore allo sviluppo economico Sione Migliore che ha annunciato che si sta lavorando per verificare la possibilità di installare in alcune contrade un sistema di video sorveglianza con il sistema wifi in modo da monitorare le zone del territorio a rischio furti, comprese le arterie stradali in prossimità delle aziende agricole. E torniamo ancora a Vittoria dove si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della settimana di studi e scambi culturali con la città algerina di Annaba. Vediamo di cosa si tratta. Presentata stamattina nella sala degli specchi di Palazzo Iacono a Vittoria la settimana di studi e scambi culturali con la città di Annaba in Algeria promossa dalla Fai Cisle di Ragusa in collaborazione con la Cisle Scuola, l'Anolf e la Cisle Ragusa organizzata con il patrocinio dell'assessorato alle politiche sociali della provincia, dei comuni di Ragusa, Vittoria e dell'Università di Catania e Ragusa. La delegazione algerina è arrivata oggi in comune in abiti tipici della tradizione del Vicino Oriente un momento importante per il nostro territorio in vista, come ha affermato il presidente Anolf di Ragusa, Karim Bufermes, di un possibile gemellaggio tra la città e Parina e quella di Annaba. L'iniziativa si tratta di un incontro culturale con l'Algeria, si tratta di quasi 25 persone che vengono dall'Algeria composte di professoresse, professori della facoltà di Annaba, arabo e italiano, sfilate di modo e musica tradizionale per la visita di Vittoria. Noi siamo qui oggi grazie alla Fai Cisle e la Cisle che mi hanno dato l'opportunità di fare questo incontro nella tesa e nel futuro che possiamo fare un gemellaggio con Vittoria. Giovanni Fracanzino ha voluto sottolineare come l'importanza di questo incontro tra culture diventi significativa anche per l'Università di Lingue di Ragusa e per i suoi studenti, che potrebbero in futuro usufruire di progetti come quell'Erasmus che si indirizzino anche a paesi arabofoni del Vicino Oriente. Non è solo nell'ottica dell'integrazione, è anche nell'ottica di creare condizioni reali, come diceva giustamente, di scambi culturali che ci consentono di esportare la nostra cultura, di socializzarla in altre realtà e di acquisire conoscenze che per noi sono importanti. Pensiamo che uno scambio culturale con le università algerine possa favorire i nostri studenti di Ragusa che sono all'interno delle facoltà di lingua araba e quindi consentire loro un'apprezzione diretta in paesi che sono, diciamo così, di madrelingua. Riteniamo che i paesi magrebini, ha affermato Fracanzino, segretario della Fai Cisle di Ragusa, siano i veri nostri partners a livello culturale, sociale, commerciale ed economico. È necessario pensare a un'integrazione reale, questo lo si fa attraverso uno scambio culturale, un confronto nelle visioni delle cose che credo sia importante. Noi abbiamo deciso di farlo attraverso questa settimana, intensa e ricca di eventi. Il Fondo Europeo per l'integrazione ha finanziato il progetto Opus Mundi. L'iniziativa è stata portata avanti dalla provincia regionale di Ragusa e dai comuni di Acate, Comiso e Santa Croce e Camerina. E si occuperà delle problematiche riguardanti la sicurezza sul lavoro degli immigrati. Finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione, il progetto Opus Mundi, a renderlo noto alla prefettura di Ragusa. Il progetto nasce da una fattiva intesa maturata nell'ambito del gruppo di progettazione del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione tra la provincia regionale di Ragusa a Capofila e i comuni di Acate, Comiso e Santa Croce e Camerina, che hanno voluto lavorare secondo una logica di filiera, unendo i loro sforzi per presentare un unico progetto che prevede azioni rivolte alle problematiche riscontrabili nell'ambito del lavoro ed in particolare della sicurezza sul lavoro della popolazione immigrata. Partners del progetto sono l'ANMI, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, e l'Associazione Onlus Coop e Cooperazione Paesi Emergenti. L'importo finanziato è di circa 150.000 euro per attuare azioni diverse, ma tutte destinate ad immigrati regolari che preve a creazione di una rete sistematica tra enti pubblici, associazioni di categorie e imprese locali, associazioni del terzo settore e lavoratori immigrati, si estrinzicheranno soprattutto sui temi dell'inserimento lavorativo e della sicurezza sul lavoro. Particolore soddisfazione è stata espressa dal prefetto Francesca Carnizzo, dal momento che i progetti finanziati su tutto il territorio nazionale sono solo 103, a fronte di ben oltre 1.000 presentati, e che addirittura in Sicilia sono stati finanziati solamente 4 progetti, Ragusa, Palermo, Catania e Siracusa. Cambiamo decisamente argomento. Al via oggi gli esami di maturità con la prima prova scritta, ovvero il tema di italiano. Delusi gli studenti che avevano fatto affidamento sulle tracce che in questi giorni circolavano su internet, come l'Unità d'Italia, Papa Giovanni Paolo II e il nucleare. Ma sentiamo in questo servizio le tracce scelte dal Ministero. Giuseppe Ungaretti, un'analisi degli anni 70, è una sul valore assegnato alla fame effimera, partendo da una frase di Indi Warl. Sono queste le tracce dei temi di italiano, con i quali hanno avuto inizio oggi gli esami di Stato, per i quasi 500.000 studenti maturanti in tutta Italia. Questa mattina, già dopo l'apertura delle buste alle 8, i titoli delle tracce, divise per tipologia, sono stati diffusi da alcuni siti di studenti. Per l'analisi del testo è stata scelta una poesia di Giuseppe Ungaretti, Lucca, per il saggio breve Amore, Odio e Passione, con brane di Giuseppe Verga, Gabriele D'Annunzi e Italo Svevo. Per quanto riguarda l'ambito socio-economico, il titolo del tema è Siamo quello che mangiamo, mentre nell'ambito scientifico è stato scelto un tema su Enrico Fermi, e in quello storico a destra e a sinistra, partendo da alcune autori che ne analizzano le caratteristiche, tra cui Norberto Bobbio e Angelo Panebianco, che ha scelto di cimentarsi con il tema storico dovuto analizzare gli anni 70, partendo da una frase del secolo breve, il saggio dello storico inglese Eric Hobswam, mentre con l'ultima traccia si chiede al candidato di analizzare il valore assegnato alla fame effimera nella società odierna, partendo da una frase di Andy Warhol, Nel futuro ognuno sarà famoso per 15 minuti. L'esame di maturità proseguirà domani con la seconda prova scritta, che riguarderà le materie di indirizzo di ogni istituto, latino all'igio classico, matematica all'igio scientifico, lingua straniera all'igio linguistico, pedagogia all'igio pedagogico, disegno geometrico, prospettiva e architettura all'igio artistico. Con questo servizio termina il nostro TG, vi ricordo che potrete seguirci anche all'indirizzo online www.fritvonline1.it Grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio. Grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio.